Ristoranti fase 2 si riparte dalle regole, si riparte dal buonsenso, si riparte dalla speranza, dalla voglia di fare, dalle idee si riparte innanzitutto da qui, da una bella bistecca, da un bel piatto di baccalà alla vicentina si ricomincia dai profumi, dei fornelli accesi, dai cuochi e dai camerieri con guanti e mascherine tavoli distanti e via, il pranzo è servito Siamo felicissimi di essere riaperti, è chiaro, abbiamo lottato per questo il cliente del mezzogiorno è un cliente che piano piano si sta avvicinando al ristorante il cliente della sera è sicuramente più fiducioso e più sereno ogni giorno che passa vediamo le prenotazioni che lentamente aumentano Aumentano le prenotazioni, anche se il break, il rito del pranzo di lavoro, non è ancora quello di una volta I viaggi per affari sono ridotti, gli incontri si fanno in videoconferenza In cambio i giovani sono tornati velocemente a incontrarsi nelle piazze davanti ai locali dello Spritz per questo è stato necessario ripristinare le regole con l'ordinanza anti-assembramenti firmata oggi dal sindaco Francesco Rucco Vedere nelle piazze, come abbiamo visto, i momenti di aperitivi o di dopo cena questi giovani che ci assembrano senza rispetto delle regole fuori dai locali non va bene, non va bene perché rischiamo di compromettere tutto quello che abbiamo fatto fino adesso e soprattutto rischiamo di compromettere quelli come me ed altri colleghi come me che hanno cercato di far sì che tutte le cose siano in ordine per poter portare il cliente serenamente nei locali arrivare a dover chiudere tutto di nuovo sarebbe gravissimo Insomma si riparte innanzitutto dal rispetto delle regole non ci sono alternative, l'epidemia ha se non altro il merito di aver restituito a tutti il valore della solidarietà e ha costretto i commercianti e gli imprenditori a sostenere le loro attività con idee e creatività Ognuno deve adattarsi un po' alle sue esigenze Io ho la fortuna di avere un giardino con il quale per esempio da questo weekend inizio a fare delle colazioni la mattina con la presisseria Bolzani di Vicenza Questa è un'iniziativa che mi permette di sfruttare chiaramente i miei spazi ma di mettere nelle condizioni il cliente di poter venire a passare un momento sereno e in sicurezza